ciao a tutti da me e da pomettino molto bene allora oggi siamo qui col vincitore del giovedì perché se no che giovedì sarebbe molto molto bene come si può ben notare ha vinto la combo verdino e rosa ma ne parliamo dopo di questa perché adesso ovviamente si devono leggere i vostri commenti vincitori e sono qui allora giorgio gessa combo e cacchine il fab combo simona costantini combo carmela tra lo combo rusca piccinelli combo martina combo rosario accorciati perline lady cappa cacchine rosa lavagno combo faili combo il mandorlo in fiore combo quindi combo 9 punti cacchine 2 punti e perline un punto molto bene poi ok essendo che questo periodo vi piacciono molto le combo ho deciso di portare solamente combo per le prossime tre opzioni della prossima volta e adesso ve le faccio vedere tutte e tre o qua i pigmenti e ve li faccio vedere prima combo oro questo con bianco ad alcol quindi prima combo bianco e oro poi passiamo alla seconda combo tiffany io lo chiamo tiffany perché mi sembra tiffany e coffee quindi grumoso e liquido seconda combo quindi coffee tiffany e poi terza combo quella diciamo un po più strana secondo me perché non so se abbia molto senso comunque vabbè abbiamo l'azzurro 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 perlato con l'emerald in ad alcol ok colori che si assomigliano un po sanno non lo so mi è girata così praticamente da questa immagine sono uguali vabbè però uno è liquido ed ad alcol l'altro è perlato quindi questi sono le tre combo questa combo azzurro ed emerald molto bene adesso parliamo delle nostre creazioni qua ho preparato tre bicchieri il verdino quello che avevo fatto vedere poi ho preparato un rosa con il colore ad alcol e o mamma c'è il vento e il pink quello liquido quello il fratello di questo praticamente questo questo scritto coffee ma l'altro c'è scritto pink ed è rosa molto bene e ho fatto uno e uno poi in un altro bicchiere che cosa ho fatto ho messo il bianco il pink e il verde mescolando tutto assieme non ho fatto rosa e poi ho versato un altro bicchiere no ho fatto cose così non si è capito niente però va bene quindi abbiamo il verde il rosino e il mischiotto e direi di partire subito da questi allora partiamo dal verde così questa volta qua ho deciso di fare almeno tre stampi con uno uno e uno per fare vedere esattamente come sarebbero stati colori quindi qua ci abbiamo il verde ora che bello molto sciccoso mescolato un po con le ciappette ma vabbè e qua il rosa ho notato che l'ho fatto un po chiaro e soprattutto ci sarà un nì perché il questo bianco è stato un po grumoso infatti quindi sarà una combo un po strana perché ci sarà anche il bianco in mezzo però trovo che questa cacchina qua sia veramente bella ok quindi magari se devo fare una prossima volta utilizzerò un altro tipo di bianco però che cosa è molto carino e poi quello che cercavo di spiegare prima non è che ho mischiato questo 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 mischiotto e questo insieme ho preso del verde l'ho messo nel bicchiere preso il bianco l'ho messo nel bicchiere il pink l'ho messo nel bicchiere ho mescolato ed è uscito questo che non ho ben capito che cavo di colore sembra un po un color carne boh eccolo qui a tu che bello a tutti gli scintillini del verde che bello non me lo aspettavo così che c'è da dietro c'è da un po di più il bianco invece grande rivelazione molto molto bello e adesso possiamo cominciare a vedere i nostri mischiotti partiamo dalla mucca metà e metà allora vediamo se mi ricordo comunque su patria non c'è tutto molto carino ho cercato di fare la divisione ma non ci sono riuscita però devo dire che questo stacco così mi piace molto ma qua c'era un glitter meno male non c'entrava niente molto molto carino perfetto poi vediamo questo test che invece ho messo il verde vieni qua così ti così mi faccio vedere che cosa ho messo messo il verde e questo oh che facilite così che facilite vediamo un po molto carino c'è qualche leggerissima ma proprio leggerissima nebulosina proprio leggera ma è molto bello molto bene cosa c'è in fronte ecco questo invece c'è un glitter che c'è in fronte ma perché perché vabbè poi vediamo il gatto che li ha tutti e tre oggi è la giornata di glitter e cose strane allora ma è bellissimo questo rosa qua in mezzo che esplode tra il verde questo colore che non so definirlo molto molto bello questo gattino molto molto bene poi passiamo all'elefantino era un po che non lo portavo quindi molto bene e cosa ci ho messo penso verde e questo può essere tic 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 a un amico pesa senza la nebulosina qui qui un po quì che scicchierino reviewing e si 180 mi piace veramente molto doveri poi vediamo questa combo che dovrebbe essere questi due molto bene vediamo che carino cos'è sta riga qui è bellissimo ma è troppo bello questo che carino sto dicendo un sacco che carino ma mi stanno piacendo un sacchissimo queste combo sono veramente molto molto belle poi facciamo la faccia di Jack che ho usato questi due ho messo il verde poi in mezzo tutto rosa facendoli fare quel cavolo che voleva no anche la moto che passa è super no guardate che nevo e sta benissimo sulla bocca è uscito cioè sugli occhi sulla bocca è un po' il ciuff no vabbè qual è che vi dico che è la mia preferita cioè mi stanno stupendo incredibilmente non lo so poi ho fatto questo piattino ho girato anche il pomettino bravo e li ho usati tutti e tre tutti e tre vabbè avete capito tre 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 allora e li ho messi a casissimo tic tic questo stampo mi piace un casino quindi non deludermi per favore vediamo ha palesemente vinto il verde ma dove sbuca fuori il rosa c'è la nebulosa no vabbè guardate sembra un fiore tipo qua c'è il gambo con le foglioline e qua cos'è sembra un tulipano una rosa ma che bello wow no vabbè wow 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 cosa manca poi il polpo l'orsettino e il gufino vediamo l'orsetto che penso di averse rimesse tutte e tre qua dentro perché è uno degli ultimi che ho fatto se non proprio l'ultimo ok oh ma che sciccherino c'è un pochino di stampo ma facciamo finta di niente che sciccherino cosa c'è qua bello mi piace un sacco il colore che si è formato qui molto molto bello questo rossettino che sciccherino che sciccherino ora facciamo il gufo e finiamo con il polpo perché poi non c'è più niente vero ma scusa ah qua le cacchine dove sono le cacchine qua le prime che ho scoperto vabbè gufo che colore c'è qui rosa e verde basta mi sembra vediamo sbam oh mega vincitore il verde ma tutto nebulosato dove c'è rosa anche qui che bello che bello cosa c'è qui glitter esatto molto molto bello molto molto bene guarda come se la luce qua qua dove c'è solo il verde top 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 e ora passiamo all'ultima con il polpo sempre verde e rosa sempre che ce la faccio ok questo non è così semplice di tirar fuori molto bene vediamo sbam oh anche qui c'è la nebulosa ed è bellissimo ovviamente ho messo il verde qui qui e qui e poi gli ho fatto fare un po' di giramonte il cavolo che volevano molto molto bello che sciccherì no vabbè un applauso a queste creazioni perché mi sono piaciute tutte in un modo incredibile a te Pomettino piacciono sei soddisfatto molto bene Pomettino ti ringrazio quindi per favore dimmi quella tua preferita l'elefantino eh sì è troppo troppo bello questo bravo bravo Pomettino guardate qua che giochi incredibili invece io vi dico che la mia preferita è Jack cioè questa cosa qua che è proprio sulla bocca c'è le righe sugli o c'è proprio wow posso dirlo wow 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 molto bene quindi respiriamo punto 1 fatemi sapere un po' che cosa ne pensate di queste creazioni e se avete voglia fatemi sapere anche la vostra preferita punto 2 io vi ricordo Instagram link Amazon e Patreon giù nell'info box per chi volete supportare me e Pomettino grazie grazie mille e grazie a Martina che è abbonata poi punto 3 vi faccio vedere le combo per la prossima volta scegliete quel cavolo che volete prima combo bianco e oro esattamente i pigmenti che vi sto facendo vedere farò un bicchiere uno un bicchiere un altro e un bicchiere insieme perfetto si saranno così le combo combo numero 2 Tiffany e Coffee Coffee e Tiffany e combo numero 3 azzurro ed Emerald ok ok ho anche scritto qui il fogliettino qua manca una E ma facciamo finta di niente ecco qua le nostre combo molto molto bene quindi Pomettino direi che è giunto il momento di salutare bravo e niente io vi ringrazio di aver guardato il mio video vi mando un sacco di bacini ciao ciao ciao